E' stato fatto un rinvio al giugno dell'anno prossimo, per la esattezza 29 giugno, senza nessuna apertura dibattimentale, perché il giudice cambia ruolo e funzione e non potrà trattare questo processo. Slitta tutto dunque, al 29 giugno, si è conclusa così la seconda udienza di smistamento per il processo per truffa aggravata a carico di circa 50 dipendenti, tra funzionari e direttori di Banca Etruria, che si è svolta venerdì mattina al Tribunale di Arezzo. Una decina per altrettante parti civili le posizioni presi in esame venerdì mattina. Non si tratta ovviamente dell'unico procedimento a carico di impiegati e direttori di filiale dell'Istituto di Credito Aretino. Alla procura di Arezzo sono stati infatti presentati oltre 450 esposti da singoli cittadini che hanno così chiamato in causa chi ha venduto loro le famigerate obbligazioni subordinate azzerate dal decreto salvabanche del 22 novembre 2015. Il processo aveva preso avvio lo scorso 21 settembre con la prima udienza di smistamento, come viene definita in gergo, nel corso della quale erano state fissate le singole date delle udienze istruttorie e con la costituzione della prima parte civile, un risparmiatore a retino di 80 anni. Dei casi presi in analisi nella scorsa udienza, uno era stato rinviato al 22 ottobre perché l'imputato aveva richiesto il rito abbreviato, gli altri invece erano stati calendarizzati per il 19 ottobre. Si tornerà dunque in aula ad una settimana di distanza dal 12 ottobre, data in cui si celebrerà la prima udienza preliminare relativa al filone della banca rotta fraudolenta. A rischiare il rinvio giudizio sono 21 membri degli ultimi CDA della vecchia Banca Etruria.